E' una balla, è una balla dove tutti i giornalisti e tutti gli pseudoscrittori e Penni Vendoli hanno allungato questa storia. Noi abbiamo dati storici, reali, quindi stiamo parlando di quadri, iconografie, testi scritti che confermano la pizza con la mozzarella. E' chiaro che i Savoia dopo l'uscita dei Borboni e l'unificazione dell'Italia avevano bisogno di trovare un consenso nel popolo, facevano una serie di attività, andavano in ospedale a far sì che facevano finte che si interessassero del popolo malato, mangiavano quello che mangiava il popolo, ricevevano le scolaresche il sabato mattina, avevano aperto l'ospedale dei ciechi, era tutto per fare un'azione di marketing e di consenso politico. Quindi la pizza napoletana in quel momento diventa un mezzo per rimanere al potere. Difatti c'è un vecchissimo libro che fa festa, farina e forc.